Ok ragazzi, completamente a sorpresa hanno annunciato un nuovissimo gioco di Batman Arkham chiamato Batman Arkham Shadow Però diciamolo subito, è un gioco per VR, non è un gioco per console Detto questo, vediamo il trailer Beh, se la grafica è questa, porca miseria Ah no, ok, non è gameplay, ok, è soltanto una cinematica Ma mi sembrava un po' troppo per essere VR Beh come trailer è pure carino, ci sta eh, per carità In arrivo a fine 2024 Ah, ne sappiamo di più a Sunway Game Fest il 7 giugno, evento che seguiremo in live Allora, eeeh, ragazzi Chiaramente essendo per VR non è proprio quello che molti di voi si aspettavano Beh già è un miracolo che ci sia un nuovo gioco di Batman Arkham ragazzi Già questo è un miracolo, dopo quella robaccia uscita con Suicide Squad Però, non lo so ragazzi, io manco c'erò il Meta Quest 3 Cioè, ma chi è che c'era il Meta Quest 3? Voglio dire, è un po' una roba di nicchia E sicuramente molti fan non saranno contenti di questo Però, ragazzi, se il livello è alto Se l'immersione a Gotham City, nei pali di Batman e tanta roba In ogni caso è un bel gioco Certo, magari non per tutti Perché comunque, ripeto, la VR non è ancora un tipo di, come dire, di gioco molto diffuso Non è un dispositivo che hanno tutti Però, raga, finché il gioco è buono E a quel punto nulla da dire ragazzi, assolutamente Bisognerà procurarsi un Meta Quest 3 Perché il tenere è molto curioso Poi vediamo Bisogna anche capire il gameplay come sarà Perché magari è un po' una robetta così Non credo come quello che hanno fatto quasi dieci anni fa Che era una sorta di demo Questo potrebbe essere qualcosa di molto più grosso Però dai, almeno è tornata la saga di Arkham Già questo è positivo Però, ripeto, è un gioco sicuramente un po' Che sarà di nicchia Anche perché lo hanno legato soltanto al Meta Quest 3 C'è soltanto un dispositivo VR Non c'è neanche per PlayStation VR 2 E altri dispositivi simili Quindi, insomma, scelta un po' secondo me Anche su questo discutibile Potevano magari lasciarlo su più dispositivi VR Però, vediamo ragazzi Vediamo poi il 7 giugno come si presenterà al livello di gameplay Perché immagino che ci mostreranno quello A questo punto, visto che uscirà a fine anno E che dire Da una parte sono contento ragazzi Perché potrebbe essere veramente un bel gioco di Batman Arkham Dall'altra parte in VR Per molti potrebbe essere un po' il limite Ma dall'altra parte potrebbe essere anche un'esperienza nuova Un'esperienza diversa per quanto riguarda questa saga Non lo so, fatemi sapere la vostra Iscrivetevi al canale E ci vediamo prossimamente con un nuovo video E poi il 7 giugno Ne sapremo di più su questo Arkham Shadow Tra l'altro nome molto carino Io vi saluto ragazzi E ci vediamo alla prossima Ciao a tutti